Ed eccoci qua ragazzi bentornati sul mio canale Qui è sempre UchikaGamer che vi parla e siamo tornati su Kingdom Hearts Siamo sempre in compagnia della bella acqua e come potete vedere siamo saliti al livello 26 E le abilità le vedete abbiamo Energiga finalmente, Tundaga, Scontro Aereo, Firaga, Aeroa, Magnetera, che devo sperare di trovare Magnetega Ring esplosivo e Blizzaga E come Keyblade abbiamo Diluvio, la nuova Keyblade ottenuta nello scorso episodio E siamo qui per svolgere qui la missione alla Torre Misteriosa In quanto abbiamo incontrato Topolin, Topolin, viva Topolin E dobbiamo parlare con il maestro Eccola qua La magnificenza della Torre di Yen Seed Uh, la luna Misterious Tower La Torre Misteriosa Ma intanto si imparasse un pochino di inglese ogni tanto Ah, 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 ah Prima di andare avanti Ok, cassa Uh, Farming No, 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 mi hanno Mi hanno stordito Ballordoni, Battardoni Ma io faccio questo Tundaga E ora Lampomania Eh, ma intanto sono già morti tutti Ma guardate qua che roba Cioè, è potentissima sta Keyblade È come la... Legami lì di... Di Ven Cioè, devastante proprio Eh, volevo trovare il Magnet Egg, l'ho trovata Cioè Dov'è? Me la sono chiamato Eccola qua Magnet Egg Cioè, proprio, raga Ehm I desideri qua si avverano Ho detto Eh, devo trovare Magnet Egg Ho trovata Megalizir Che non ci serve E noi possiamo andare da Yen Seed Oh, altro Mappa L'immagino Ma no, ricetta King Mickey King Mickey? Beh, sconfitto Non puoi dirmi che Ma no, ricetta Ma stai Xehanort E... Terra Non! Non! Quattro! 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 Terra non potrebbe... C'è il cimitero dei Kiblai C'è il cimitero dei Kiblai C'è il cimitero dei Kiblai Ok Ho dovuto andare dopo E vedere se è vero Be on your guard Tranquillo Yen Seed Terra Ben Ora puoi effettuare Unione dimensionale Con Paperino E Pippo Diario di Xehanort 4 E questo si concludeva così E infatti abbiamo sbloccato appunto Il cimitero dei Kiblai E visto che vi ho fatto vedere Proprio poco 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 Visitiamo anche Il cimitero dei Kiblai Di Lovia Detta così mi fa Malsperare però Cioè io mi tocco Non si sa mai Scusate la voce ragazzi ma Ma quando sono tornato da Roma Ho un po' di mal di gola Kiblai Kiblai Gravie Il cimitero dei Kiblai Bene Perfetto Qui abbiamo la mappa Immagino Immagino Figurino Qua dovrò andare in cerca Di tutte le figurine Sia con acqua Ventus E poi vediamo con terra Dove riusciamo ad arrivare Oddio no Perfetto A parte questi due Mi sono liberato la strada E ho fatto E ho fatto praticamente Quasi tutte le casse Però vabbè Non l'apro Perché l'aprò poi Un altro momento U U Vamos ecco terra i was told the master was struck down yes that's right i was stupid and helped zeyanort do it the master he tried to hurt ben i only fought because i wanted to protect him but i was tricked zeyanort set the whole thing up also he could awaken the darkness inside me you were right aqua and so was the master i did need to be watched i went astray but no more let's hope what else is darkness but hate and rage zeyanort is feeding the dark fires within you making you fight you'll go astray again tell me how does that honor our master's memory terra ecco ben zeyanort wants me and venitas to fight make some kind of keyblade but the master said we can't let that happen and he tried to destroy me for it keyblade i still don't know exactly what it is but it scares me to death even just the thought of it relax man we're here and we're gonna take care of you i may have to fight benitas after all if i do guys i want you to the three of us can never be torn apart all right i'll always find a way i'm asking you as a friend just put an enemy cazzarola però così non glielo puoi chiedere ed ecco che arrivano gli stronzoni strunzo 1 e strunzo 2 behold these lifeless keys used to be full of power united with the hearts of their masters on this barren soil keyblades of light and darkness were locked in combat as a great keyblade war raged countless keyblade wielders gave up their lives all in search of one ultimate key and it will soon belong to me keyblade armatura uru ci-fiена ruptur 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 hai ahuh e noi dai che c'è e io ancora la volta che c'è me fanno perdere gli anni non loco E terra è l'unico ancora che è stato sbattuto per terra diverse volte E non ha Per terra Terra per terra Attacchete Ora la maschera E ora non ce l'ha più Ben, sei ok? Ed ecco qui Kingdom Hearts Vabbè Miki O meglio Topolino Vabbè? 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 Con fuggi Braig No ragazzi sto un po' zitto perchè sennò 1 2 4 e 5 Ok Siamo all'ultima tacca ragazzi Wow Oltre a Ad attaccarlo quando Quando carica dovrete Respingere i suoi attacchi Come faccio io Però porca troia allo con che se ne scappa E non capisco poi dov'è Poi mi ricompare Eccolo questo pezzo Dovrete contare qui 5 Assalti suoi 1 2 3 4 E 5 Dopodiché stare fermi E mandargli contro gli attacchi vostri Quando fa così 3 Visto Almeno così Siete sicuri Di colpirlo Ci vuole un po' eh Perchè ci vuole tanta pazienza In questo Ma Fidatevi che Porca troia Ci sto fudando Io tutto qua Ok 1 2 3 4 E 5 Battuto Minchia Oh che sudata Uff Uh Uh I keep forgetting Don't mess with keyblade wielders But you know what That just means I made the right choice Well He wanted me to buy time And I'd say he got it C'è questo? Topolino Ben, sei sicuro! Ben? Oh oh, qualcosa... La X-Blade Oh? That's not Ben! Correct. I am not Ventus. His heart has become a part of mine now. This keyblade will open a door. One that leads to all worlds. Then, keyblade-bearing warriors will flock here, from each and every one of them, to battle for the light within Kingdom Hearts! And just like the legend says, the Keyblade War will begin! Shut up! I'm sick of your nonsense! Give Ben his heart back! And now we're going to face... Uh, well... Vanitas with the help of Topolino. But, I have the X-Blade now! Oh! Oh, 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 oh! What the fuck is? What the fuck is? Let's go! Team 3! T&P The last attack. We're going to do... Tf. 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 Ragazzi Cioè È la cosa brutta da fare Cioè è la cosa Più noiosa del gioco Quando vanno sotto terra Perché perdi il Il lock on E Topolino Ovviamente Te segue come un'ombra E loro Ne approfittano Però Avrei potuto colpirlo Però Fai conto Guarda che sto fendente Dell'una di merda Oh basta Andare sotto terra Cazzo Manita Di Adesso Cosa succede? Filmato Che botta What's wrong Giving up already Man cano Terra Then Let me strength No You're just Wasting your energy You're just wasting your energy You're just wasting your energy Give me an own double For a quick time And Spare cap Oh Che cacchio Oh no It's Donald Heywire Vanita Sono stato sconfitto Ecco qua X-blade distrutta Yeah Ben Preso Diario di X-Menward 7 Diario di X-Menward 7 Diario di X-Menward 7 Ma hai viva almeno Venti Ma hai viva almeno Venti In che senso il cuore sta dormendo? Venti I Could not say It is almost as though his heart has left Should it return he may very well wake Should it not Then he may sleep like this For all the eternity No I'll keep him safe Until he wakes Forever if I have to I will tell you what your friend needs right now It is not your protection He needs you to believe You see Ventress' heart hangs in the balance It sleeps in the place between light and darkness From all I can perceive That means he will be looking for a friend One who believes in him To show him the way home Just as long as you love him Then Ventress will be able to find you when he wakes He can follow that love back to where he belongs The Realm of Light Ah Don't you worry Aqua I believe in Ben too Gosh He's been as good a friend to me as anybody And if both you and me believe in him with all our hearts Then he'll have two lights to follow Instead of one Three lights Tara But Tara's gone Maybe for good I think I know how to find him Molto bene ragazzi Anche questa trama è finita Abbiamo concluso anche la seconda trama Ovvero quella di acqua Non ci resta che continuare l'avventura qui su Birth by Sleep Con l'ultima trama Ovvero quella di Terra E capiremo Che cosa stiamo andando incontro In questo Finale Cioè I vari finali Detto questo Io come sempre Vi invito A lasciare Un bel like A commentare Condividere Iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto E Alla prossima Ciao belli La cercatrice Trofeo sbloccato Guarda